che più che parlare nelle piazze scrivono tanto e ricorrono pure in tribunale tanto ma voi a questo povero medico di campagna non gli date neanche la soddisfazione di leggere ciò che scrive non gli date neanche la soddisfazione di andarvi ad ascoltare gli interventi fatti in piazza perché ovvio la piazza più di un certo numero di persone non può contenere e fortunatamente questa sera per esempio la piazza è piena ma più delle persone che sono presenti questa piazza non può contenere e allora però c'è il web io laddove non trasmetto come questa sera faccio in diretta sul web comunque poi ripubblico la manifestazione della piazza e allora dico perché a questo povero medico di campagna non gli date qualche soddisfazione dopo tanto lavoro che fa per voi leggetevi i messaggi che pubblico su telegram in particolare prima li pubblicavo su facebook ma adesso mi oscurano un giorno sì e l'altro pure e quindi sto pubblicando su telegram ma su telegram c'è scritto tutto se lo leggete attentamente li fate una cultura lì c'è una bibbia da leggere e lì pure pubblico tutti gli interventi che faccio e allora quindi questo mio dire può essere fonte di cultura per tutta l'italia per tutto il mondo per tutti quelli che lo vogliono ascoltare tant'è vero che credetemi io prendo migliaia di telefonati dall'italia ma anche dall'estero perché la gente comincia fortunatamente a essere curiosa vuole conoscere la verità perché la gente vuole effettivamente quindi arriva arriva